440 scooter elettrici a noleggio sulle strade di Roma con un nuovo modello di vettura calibrato specificatamente sulle esigenze degli utenti romani. Sono in arrivo nella capitale. Dopo i primi 18 mesi di servizio con 160 veicoli, l'azienda Ecoltra ha rafforzato il suo parco mezzi e ampliato l'area entro la quale sarà possibile utilizzarli, allargandola verso le periferie e cercando di includere un numero maggiore di stazioni della metropolitana. Il nuovo scooter a trazione elettrica a Skull è stato progettato e viene prodotto interamente in Italia e personalizzato per gli utenti romani con una sella ampliata e allungata per poter accogliere comodamente due passeggeri. Oggi abbiamo presentato sempre con la società Ecoltra il nuovo progetto. Abbiamo aumentato i motorini in sharing elettrici circolanti su Roma da un parco di 240 arrivano a 440, aumentano anche i territori serviti, iniziano a spostarsi più in periferia, è un servizio che i romani hanno apprezzato moltissimo, tra l'altro l'energia non solo è completamente elettrica ma viene da energie e da fonti rinnovabili quindi diciamo elettrico al 100%. Inoltre diciamo che l'azienda produttrice di questo nuovo modello di scooter è italiana, quindi questa bella partnership tra Ecoltra e un'azienda italiana porta anche lavoro, questo è il futuro che vogliamo, un futuro sostenibile, un futuro nel quale il lavoro possa andare in questa direzione.